Io ho la possibilità di lavorare a Napoli e vedo che l'affluxo di turisti sta aumentando in particolar modo negli ultimi tempi, soprattutto nel periodo natalizio, vedo via Toledo che è piena di turisti, di persone che affollano le strade. A me piace, mi è sempre piaciuto vedere queste cose quantiche, si sentono dire tante cose, però io fino ad adesso tutto quello negativo che ho sentito non ho visto niente. Il calore di Napoli si riscontra, è reale nella città, siamo soddisfatti del cibo, del posto e dell'atmosfera. Sempre è bello tornare a Napoli, questa per me è la quarta, quinta volta, ma torno sempre volentieri. La confusione di Napoli è stupenda, è meravigliosa, è come la pizza, è un babà. Il calore dei napoletani è sempre comunque diverso dagli altri popoli e quindi è sempre bello venire qui a Napoli. È veramente, veramente diverso da le altre città che ho visitato in Italia, quindi è molto vibrante, le persone sono molto benvenuti, la città è veramente, veramente buona e l'architettura è molto, molto diversa da quello che ho andato nel nord dell'Italia. E' il nostro appuntamento annuale, se non veniamo a Napoli nel mese di dicembre non possiamo festeggiare il nostro Natale. Pizza, bufala, trippa, non ci lasceremo niente. Un ringraziamento a tutti coloro che fanno qualcosa per la nostra città, per Napoli. Abbiamo una città piena di turisti, piena, stracolma di gente che impazzisce per Napoli. Mi sono trovata bene. Napoli è sempre bella, Napoli è Napoli. Vale la pena venire a vedere Napoli.